Frosinone città in festa. Nella sala consigliare del comune è stato presentato ufficialmente il ricco programma di eventi per celebrare le festività natalizie. Oltre a un mese di grandi appuntamenti che coinvolgeranno l'intera comunità e in particolare i più piccoli. Obiettivo, creare un'atmosfera unica e valorizzare tutte le tradizioni del territorio. Questo sarà un anno straordinario, abbiamo iniziato qualche settimana fa con le luminarie che penso siano state apprezzate da tutti e sono veramente belle e danno un'area natalizia particolare. Oggi abbiamo presentato quello che è il calendario degli eventi. Sicuramente non ci annoieremo perché sono tanti tantissimi eventi degni di una città a capoluogo. E' quello che io dico a tutti coloro che si collegheranno con noi, di fare molta attenzione a quello che è il calendario che scandiremo sui social e attraverso gli informa città. Perché sono talmente tanti eventi che una brochure non li avrebbe raccolti tutti. Quindi prego tutti coloro che avranno voglia di partecipare, in modo particolare i bambini perché questo è un Natale per i bambini, per coloro che sono meno giovani. È un Natale dedicato veramente a loro, di fare attenzione e di partecipare tanti perché sarà un cartellone particolarmente denso di eventi, eventi importanti. Ci sono grandi novità, ci sarà anche un Natale dedicato al digitale, a quella che ha l'innovazione tecnologica, attraverso quegli strumenti che sono particolarmente cari alle nuove generazioni. Quindi un Natale per tutti.